Bene, tornati in studio, siamo in compagnia dell'assessore Stefano Gallo, stavamo parlando adesso nel corso della pubblicità di tutti gli eventi che si sono tenuti adesso da poco a Torino, una carrellata. Io prima ho citato i Master Games che sono stati un successo quest'estate, si sono appena tenuti, adesso c'è stata la World Cup. A lei la parola per fare una carrellata di questi eventi e anche di quali sono stati dei successi, lo so, ci saranno stati però dei dati per esempio sulla ricaduta in termini economici sul territorio, poi magari anche qualche polemico, magari qualche lamentela per esempio sugli automobilisti a cui sono stati chiusi i passaggi o cose del genere. Ma dunque, intanto perché un'amministrazione deve supportare i grandi eventi? La risposta è semplice quanto importante. Primo perché i grandi eventi sono un grande volano di supporto alle attività produttive della città e anche a quelle turistiche. Secondo perché dal punto di vista sportivo il bambino che vede il campione si spera che col meccanismo dell'emulazione del campione possa intraprendere a fare delle attività sportive e quindi per noi è un grande meccanismo di promozione sportiva. Tra l'altro mi scusi, prima della pubblicità lei stava finendo di raccontare questa iniziativa proprio sulle partecipazioni delle scuole tra Milano e Torino. Ci siamo dovuti interrompere per la pubblicità. Vuole tornare sul concetto? Sì, noi sosteniamo pagando col bilancio comunale circa 95 mila bambini all'anno per i corsi nelle scuole che ovviamente sono un modo per poter iniziare a far conoscere a questi bambini sia dei elementari che poi delle scuole medie, un assaggio di sport per poi far dare a loro la possibilità di, avendo conosciuto più sport, di scegliere quello che a loro più sarà congeniale o agonisticamente o amatorialmente. Dicevo, per esempio nel mito dello sport che stiamo creando, quindi questa liaison, questo rapporto con Milano per Expo 2015, l'idea potrebbe essere di fare dei tornei delle Olimpiadi nelle scuole alla città di Torino e nella città di Milano e poi fare le finali scambiando le città o le fasi intermedie scambiando le città. Oppure, dicevo prima, alcune, diciamo, grandi manifestazioni che non hanno spazi nelle rispettive città, andarle a fare nelle altre città. Per esempio nel 2013 noi abbiamo avuto un grande anno e un grazie al CONI nazionale, al Presidente Malagoglio, lo posso dire ufficialmente, glielo voglio dire perché la Capitale Europea dello Sport dal punto di vista agonistico non la potremmo fare senza un grosso coinvolgimento del CONI. Noi abbiamo avuto a febbraio, siamo riusciti a riportare dopo 42 anni di assenza a Torino, la partita della Coppa Davis Italia-Croazia e fu l'occasione in cui sperimentai un modello, che è quello che le dicevo prima, di promozione sportiva. Invitai 2.800 bambini delle scuole della nostra città a assistere gratuitamente agli allenamenti della nazionale italiana. Fu un successo per due ordini di motivi. Primo perché alcuni di quei bambini non potevano permettersi di andare a vedere la partita per motivi legati alla loro condizione socio-economica. In secondo perché vedendo il campione che si allena e suda, trasmettiamo un messaggio che è quello che le cose si devono conquistare e non si devono sempre aspettare che arrivino dal cielo. Continuiamo così nel 2013, riportiamo la War League di Pallavolo a Torino con Italia-Cube, Italia-Germania al Pallaruffini, inauguriamo, penso che io non lo ricordo nella mia giornata di aver visto a Torino così, ma allo stadio del nuoto ci fu il meeting con la Pellegrini che vinse la gara, in cui il meeting del nuoto, che fu un inizio della collaborazione con Milano, perché il meeting di nuoto nacque all'Arbor, che è una piscina di Milano privata, fu sempre fatta in quella piscina di Milano e quest'anno fu il primo anno in cui il primo giorno fu fatto a Milano e il secondo giorno fu fatto a Torino.